Un obiettivo è stato distrutto. 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 Grazie a tutti. Il carro armato nemico è stato distrutto. Grazie a tutti. Il carro armato nemico è stato distrutto. Grazie a tutti. Il carro armato nemico è stato distrutto. Il carro armato nemico è stato distrutto. Grazie a tutti. Il carro armato nemico è stato distrutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.